Entra nel vivo uno degli interventi di maggior impatto e complessità che compongono il piano di salvaguardia di balneazione ottimizzato, una delle principali opere idrauliche degli ultimi anni in Italia, messa in campo da Comune di Rimini, Gruppo Era e Romagna Acque, per un valore complessivo di 154 milioni di euro. Procede infatti il cantiere che consentirà di realizzare in Piazzale Kennedy, nel cuore della Marina riminese, una importante infrastruttura di accumulo caratterizzata da un volume complessivo di 35 mila metri cubi. In particolare in questi giorni sono iniziati i lavori per lo smantellamento della fontana presente nel centro del Piazzale, attività propedeutica all'inizio degli scavi per la realizzazione della vasca. In contemporanea prosegue l'intervento di spostamento dei sottoservizi. Conclusi i lavori su Viale Vespucci, il cantiere si è spostato sul lato sud di Piazzale Kennedy. La realizzazione dell'impianto di accumulo nel suo complesso comporterà un investimento di circa 30 milioni di euro inserito nel piano investimenti del servizio idrico approvato da Atesir e cofinanziato da Comune di Rimini e Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la regione Emilia-Romagna. Oggi stiamo scavando sottoterra non per tirare su un grattacielo come era previsto, non per fare cemento ma per andare sotto 40 metri e fare la più grande vasca di raccolta delle acque che c'è al momento in Italia. Delle pompe prenderanno quest'acqua e la porteranno al depuratore di Santa Giustina. Questo vuol dire che noi riverseremo nel nostro mare solo acqua pulita. Questo è un intervento che per Rimini è importantissimo, lo è per tutta la regione, sia per le dimensioni, per l'importanza, per il contributo che dà al tema di acque sempre più pulite, per un territorio sempre più bello e ambientamente sostenibile. Noi abbiamo presentato la nuova legge sul turismo che vuol portare, tra qualche anno, augurarci di superare di nuovo le 50 milioni di presenze come era tantissimi anni fa negli anni del boom.